Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio riguardante le info di Farmy Simulator 2017. Scorsa volta vi ho fatto vedere questo che dovrebbe essere il trailer, invece no, in tedesco sono le informazioni che vi dice lsinfos ed è riuscita anche questa cosa riguardante il lavoro contro terzista, soltanto che non ve l'ho presentata. Comunque la mappa si chiama Gold Crest Valley, si trova in Nord America, quindi ci saranno campi molto grandi, ci sarà ancora la mappa Sosnovka, che sarebbe la Gold Edition, direttamente per l'avvio mappe 16x, però non ho capito cosa si intende, una quantità enorme di prestazioni, boh, non saprei. Ah ok, si può impostare l'unicatore sulla mappa e poi vi uscirà tipo una traccia, vi uscirà un raggio laser che vi indicherà dove dovrete andare. Poi ecco una cosa importante, ho visto questa, la configurazione del Val Traceria, cioè che le configurazioni dipendono dal modello del trattore, ma è stata mantenuta in una realtà, quindi se voi ad esempio al Fendt o al Valtra potrete cambiare soltanto il colore del bordo, colore bordo non so bene di preciso, penso il colore del mezzo, dato che i Valtra hanno più colori, il motore e il frontale, cioè le cose che vengono cambiate realmente. Ad esempio non è che potete aggiungergli cosa, non so, le doppie, no, beh le doppie ruote non ce le avrà quindi il Valtra. Vabbè, ad esempio il Fendt potete cambiargli colore, che ha due campi, quindi potete mettergli due tipi di colori, ruote gemellate, gomme larghe e i pesi sulle ruote e poi ci sarà una specie di Hard Point Extension per cambiarli. Allora, per la prima volta si può anche, ah, comprare le attrezzature, e lo pagate il 10% dall'acquisto regolare, quindi in questo 2017 ci saranno molte cose che c'era nel 2015, però non saranno di default, ecco. Poi sono state migliorate grafiche e tutto quanto, ho letto, poi qua in basso, dov'è che è? Beh ho trovato, ci saranno i Big Bag, molto bella questa cosa, e ci sarà anche per una cosa più realistica, ovvero che se voi arate, liquamate e poi più avanti fertilizzate, seguendo una certa serie degli eventi, tipo prima liquamate o squargimento letame, poi arate, avete una percentuale di resa in più, e poi ci sarà tipo una specie di coltura intermedia, che se voi andrete ad ricararla, ricaverete una maggior quantità del prodotto finale, e poi nulla di che, volevo farvi vedere questa cosa qua che è uscita oggi, lo torniamo indietro, non l'è ancora stata messa però, ah si è stata messa ora? Quanto pare si, sto per renderizzare un video, soltanto che è uscito, sono uscite queste 2, 3, 3 immagini, mi sembrava 4, vabbè sono uscite queste 3 immagini, vabbè direi di dirvelo da qua, comunque la mappa si chiama non regolo vale, perchè è una traduzione, si chiama, l'ho detto prima, non mi ricordo proprio il nome, posso sapere che non lo trovo, ma ecco dovrebbe essere qua, Goldcrest Valley, e ispirata ai paesaggi lussureggianti delle foreste e grandi campi, pronto per l'agricoltura Nord America, quindi vedete, faccio vedere le immagini, anzi no, vi dico prima qua, questo nuovo ambiente, la flora e il paesaggio, ok, avevo visto che c'erano, ecco, campi sono enormi e possono essere trovate all'interno della mappa, alcuni campi sono superiore ai 10 acri, che dovrebbe essere un'unità di misura, però non sono riuscito a trovare nessuna informazione, comunque sono dei campi belli grandi, e poi ci sono anche molti locali ed imprese, tra cui gli agricoltori residenti, sarà la ricerca per il vostro aiuto, ok, non ho capito molto, e comunque saremo in grado di interagire con alcune delle piccole imprese, che ci sono ecco, alcune piccole imprese, con le piccole imprese che ci sono possiamo interagire, non tutte, credo, poi è possibile vendere la lana e il commercio del grano, ah, vedete, ci sono i punti specifici, ok, poi della bellissima campagna, l'aria fresca, ok, anche un posto di turisti, un'attrazione turistica, e non so cosa possa centrare, cioè ci sono i turisti, parla che i turisti vanno al lago, notare in piscina riscaldata, non so cosa possa centrare con farming, però, vabbè, almeno le passeggiate nei boschi, quelle sì, e poi ho trovato che dice, ma non è tutto, ah, non è tutto ciò che si può fare, Aiden intorno a questo posto ci sono pepite d'oro, oggetti da collezioni che si possono trovare nel gioco, si può anche godere di un gioco di cerchi al campo da basket, dal parco, so che si può giocare a basket nel campo, però la cosa delle pepite d'oro non so se magari voi potete trovarle e andarle a vendere, oppure anche gli oggetti rare e andare a vendere, questo non l'ho ben capito, contenuti e piccoli dettagli, e appunto la mappa è piena di contenuti e piccoli dettagli, ora non vorrei dilungarmi troppo, ok, voglio partire da questa screen, sono le screen che hanno rilasciato, voglio farvi vedere, vabbè, tutti gli edifici che sono praticamente diversi, qui il campetto da basket, qui noto che sarebbe per comprare il campo, è sempre quello, soltanto che ora viene messo all'inizio del campo e devo dire che è una buona cosa, adesso non ricordo sulla Sosnovka se era così, può essere, però non è più al centro del campo, bella cosa, molto reale, anche se era meglio un cartellino, però fa nulla, qui vediamo il nostro camion che non ho ancora, non ricordo bene il nome, comunque vedete il legname, vedete qua che si vede la parte bianca, quindi significa che nella realtà la corteccia viene strappata, ad esempio dalla ponza quando lo taglia, lo srama e va via la corteccia, non vorrei, cioè vorrei che fosse una cosa così, però non saprei, perché vedete anche qua sopra vedete degli spazi, cioè vedete un po' di bianco dalla corteccia staccata, ecco, il legname è bello corto, poi, ecco qua, sembrerebbe un posto in cui si può entrare, però non so, non è GTA, ecco, qui vedete del Goldcrest Northern Log, credo sia un ristorante, cioè un albergo, vedete qua, sembrerebbe una persona che passa, le luci notturne, il lago, penso che, no, il lago credo che sia come la Sosnovka, anche migliorato, perché se l'han fatto nel DLC, lo faranno anche qui, comunque meriterà molto questo lago, e non è soltanto uno, poi anche qui vorrete che texture, della roccia, dei sassi, molto belli, e questo jeepino qua, questo specie di pick up, che non so se sarà di default nostro o saranno le macchine che girano, penso più alle macchine che gireranno, e infine abbiamo la cartina della mappa, la prima cosa che mi è venuta all'occhio sono, beh, oltre al laghetto, si è solo uno, perché questo qui sarebbe, no, beh, sarebbe un altro laghetto, finale, comunque questo qua è quello principale, quindi quella zona di prima che vi ho fatto vedere dovrebbe essere qua, qui il parcheggino, qua l'attraversamento, credo sia questa, eh, perché è l'unica cosa che mi è venuta un po' più all'occhio, come zona è quella, poi notati i campi grandi, però la prima cosa che ho notato sono queste zone qua, che credo saranno sicuramente le zone forestali, io ne ho contate 6 o 7, allora 1, 2, qua facciamo 3, sarebbero 2 però, facciamo 3, c'è 1, 2, 3, 4, 5 e qua sembrerebbe che ce ne sia un'altra, infatti un po' c'è 6, e nulla, comunque campi veramente immensi, anche una bella zona di città, adesso non, cioè io sinceramente nella mappa americana che c'è anche quest'anno, che è uscita all'inizio con, sarebbe stato il DLC Titanium Edition del 13, non l'ho mai visitata tanto la zona centrale, però sembra molto più piccola rispetto a questa, e ecco qui, poi ho notato il BGA, sembrerebbe 1, 2, 3, aspettate, 1, 2, 3, 4, 5 trincee, no sembra strano, in solito ne fanno sempre 4, comunque sembrano 5, e qua sembrerebbe almeno, o che siano qua le cocle, boh non saprei, adesso non saprei proprio, però secondo me ce ne sono più, perché, cioè così come penso io, o che le ha messe qua e qua, oppure solo qua, non saprei, e poi penso che una zona farm possibile sia questa qua, e è stata azzeccata come zona centrale, non è male, ecco, e nulla ragazzi, io spero che questo video, pur breve che sia, vi sia piaciuto, stavo per renderizzare un video soltanto che sono andato su Facebook, mi sono comparse queste tre screen, ho detto, no no, allora vi faccio un breve video di informazioni, e nulla, spero che il video vi sia piaciuto, mi sono preparato, ecco, per domani la serie Alpina, come sempre, questa sera, ecco, beh, spero che voi vediate il video entro sera, sto registrando di venerdì, comunque questa sera non ci sarà, cioè almeno non credo di registrare la serie The English Farm, un multiplayer, e nulla, ciao a tutti ragazzi, e al prossimo video!